LESSON 8 LESSON 9 LESSON 9 LESSON 9 LESSON 9 Ben Harper Benito Asperti Bob Marley Roberto Merelli Boy George Giorgi Brian May Bruno Maggioni Maria Carey Maria Carobbio Eddie Van Halen Edoardo Vanalli George Harrison Giorgio Arrigoni Giorgio Arrigoni Jamira Quay Gianmiro Quaglia Justin Timberlake Il Giustino Tiraboschi Kurt Cobain Al Curzio Corbani Ol Neude Lelio Marvin Gaye Ol Marino Gaiti Olivia Newton-John La Olivia Rotanodari Ozzy Osbourne Lo Svaldo Baroni LESSON 9 Let's try a few sentences Dai che me ne beto solo tre Can I borrow that CD by John Lennon please? Che avre che mia lecca il CD del Lady di Demprestam When I hear Freddie Mercury sing I get a boner Quando che gente ha cantà al marcasoli e ma è duro ostrega I wish I'd seen Michael Jackson live Ma ha res piacita gente la cantà o scende il giaco Brian May is the dog's bollocks Ol Bruno Maggioni ha l'è il miglior Did you buy Mariah Carey's latest album? Ha l'è comprato l'olten disco della Maria Carobbio? When I play Lenny Kravitz too loud my window panes break Quando capì che ho ravissato l'estereo Ima è so idea dell'ostrica Excuse me? Is Paul McCartney's new album out yet? Amma accuse A glissiamo che l'olten del Martinell How much is the latest album by Beppi on the Christmas? Amma fe qua del disco nove del Beppi If you don't get me that album by Robi Zonka I'm gonna set fire to your shop Te pipot Eta matro è mia che il disco del Robi Zonka Atta brucia il negozio capìt? Bene